Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente 3 km di coda tra incisa Reggello e Valdarno. Ci sono inoltre code in uscita a Firenze Sud per la partita della Fiorentina e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandici e Firenze Imprunita. In direzione Bologna code a tratti tra il bivio di Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze code tra Sesto e Peretola e rallentamenti tra Prato Est e il bivio per la 1. In direzione Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est e rallentamenti anche sulla Fipili tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze via Piercapponi chiusa per anomalia stradale con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.